Di primio allora, il tavolo romano ha indicato e ha detto che dovrà essere di Fratelli d'Italia il candidato presidente del centro-destra alle regionali. Lei è stato a Roma fino a qualche ora fa, ha avuto degli incontri con i vertici romani del suo partito, cosa è venuto fuori? È venuto fuori che viene confermata ovviamente questa scelta che è stata fatta sul tavolo romano, la scelta è quella di avere Fratelli d'Italia chiamata ad esprimere il candidato presidente. Noi ovviamente lavoreremo tutti quanti perché la candidatura espressa da Fratelli d'Italia possa essere una candidatura non soltanto condivisa ma anche vincente quindi porteremo avanti ogni azione perché ciò possa accadere costruendo delle buone liste, facendo un buon programma, creando le condizioni perché ovviamente il centro-destra torni a governare unito la regione Abruzzo. Certo, non posso nascondere il rammarico perché ritengo che se qualcuno avesse fatto qualcosa in più forse oggi avremmo potuto noi avere il ruolo di gestire il percorso di vittoria del centro-destra che comunque dovrà esserci soprattutto con l'aiuto di Forza Italia ma con un candidato di Fratelli d'Italia. A chi si riferisce? No, mi riferisco a tutti noi, tutti quelli che avrebbero potuto forse fare più, me compreso, ma è evidente che se non si decide, se si arriva sempre all'ultimo momento a decidere poi chi è pronto a chiedere e a offrire una candidatura la ottiene. E lei cosa farà adesso? Farò quello che fa ogni buon uomo di partito che crede in una coalizione, io credo nel centro-destra, sono un uomo di destra che vive nel centro-destra e quindi farò campagna elettorale per quello che sarà il presidente indicato. Si era dimesso da sindaco e a questo punto dovrà ritirare le dimissioni? Le ritirerò il 4 mattina perché fino a quel giorno mi riservo anche di fare altre scelte.